Disponibile presso la nostra concessionaria U-Drive l'utilitaria Kia Picanto 1000 benzina a 69 CV. La vettura in video è equipaggiata di allestimento i-tech, che prevede di serie. Alza cristalli elettrici anteriori e posteriori, bluetooth con viva voce e comandi al volante, Kia Navigation System con 7 anni di aggiornamenti mappe, Kia Connected Services e telecamera posteriore, finiture interne Metal Look, volante e cambio in pelle, vetri posteriori oscurati, climatizzatore automatico, fari a led anteriori e posteriori, sensore crepuscolare, cruise control, cerchi in lega 14, trip computer, total connectivity system comprese USB, AUX iPod, maniglie esterne cromate, sedili posteriori ripiegabili, sedile guida regolabile in altezza, funzione MyMusic con hard disk interno alla radio, fari fendinebbia, servosterzi e volanti regolabili in altezza, specchietti e paraurti in tinta carrozzeria. Davvero completa anche la dotazione di serie riguardante la sicurezza. Sea airbag, ABS, ripartitore elettronico di frenata, frenata assistita, sistema segnale frenata d'emergenza, sistema di monitoraggio pressioni pneumatici, sistema di assistenza alla partenza in salita. La nuova Chia Picanto ha uno stile ancora più incisivo grazie alla caratteristica griglia Tiger News. L'abitacolo ha un aspetto moderno ed è realizzato con cura, anche in fatto di praticità. Non mancano né vani, portoggetti né portabicchiere. La City Car Chia Picanto 1000 benzina a 69 cavalli è disponibile con una straordinaria offerta presso la nostra concessionaria a partire da 7.990 euro nella versione City a benzina, a 8.890 euro la versione GPL e a 9.490 euro con l'allestimento ai tech in video. Parliamo di vetture nuove con oltre il 22% di risparmio dal prezzo di listino con i super sconti U-Drive. Garantiamo il prezzo più basso d'Italia.